Vecchi cuori bianconeri, ben ritrovati e buon pomeriggio. Mentre aspettiamo anche di vedere quella che sarà la vincitrice della finale di Europa League, Atalanta o Bayer Leverkusen, cerchiamo anche di guardare un pochettino in casa Juve, di guardare al futuro, perché questa mattina abbiamo avuto un appuntamento importante, le pagelle o comunque la tier list, il pagellone di fine anno, è un appuntamento che tutte le volte aspettiamo con ansia ed è arrivato finalmente. Stiamo iniziando ad archiviare quella che è stata la passata stagione, l'ultima, anzi quella ancora in corso, l'ora del vero, perché abbiamo da giocare l'ultima partita contro il Monza sabato alle 18, però è anche ora di iniziare a guardare un po' in avanti perché iniziano a muoversi un po' di notizie, un po' di informazioni che sono molto succulente. Come alcuni rinnovi dei contratti, i primi due giocatori che dovrebbero rinnovare il contratto sono Rugani e Cambiaso. Due motivazioni differenti, Rugani perché guadagna troppo e va spalmato per quelle che sono le casse attuali della Juventus, per quello anche che inizia a essere un percorso calcistico di Rugani, che è un classe 94 e che quest'anno ha spento o spegnerà 30 candeline e per Cambiaso invece siamo soltanto agli inizi di questa carriera con la Juventus e serve proteggersi un po' da quelli che saranno gli assalti di altri club interessati. Cambiaso dovrebbe ritrovare il suo vecchio maestro Tiago Motta e dopo averlo allenato a Bologna chissà che non possa migliorarlo ulteriormente pure alla Juventus. Alla Juventus dovrebbe tornare anche Giorgio Chiellini. Questa è una notizia che è circolata oggi pomeriggio, è stata postata, è stata distribuita, diffusa da Giovanni Albanese. Che saluto, Chiellini tornerebbe in Juventus con un ruolo dirigenziale, un ruolo dirigenziale molto vicino alla dirigenza sì ma anche al campo, ai calciatori. Ho chiesto in privato a Giovanni Albanese se possiamo definirlo quasi un ruolo alla vecchia Nedved. Mi ha detto sì circa, qualcosa di simile. Quindi aspettiamo e vediamo cosa farà Giorgio Chiellini. Si era parlato di un suo ipotetico ritorno alla Juve qualche mese fa quando circolava l'intenzione di Chiellini di ritirarsi dal calcio giocato. Non si era fatto niente fino ad oggi e oggi è iniziata a circolare questa indiscrezione qui. Vedremo cosa succederà. Io per Giorgio lascio sempre una porta aperta perché per me Giorgio è stato un grandissimo calciatore per la Juve. A livello dirigenziale mi piacerebbe però capire di che tipo perché Giorgio ha anche delle competenze derivate dai suoi studi. Ha una doppia laurea in economia se non erro. Quindi non mi aspettavo sinceramente un ruolo orientato anche verso il campo. Mi aspettavo qualcosa di un po' più legato a numeri e bilanci. Chissà che non possa dare una mano in entrambe le occasioni. E poi abbiamo degli aggiornamenti su quello che dovrebbe essere il prossimo e futuro allenatore della Juventus e cioè Tiago Motta. In mattinata era partita una voce secondo la quale proprio in queste ore avrebbe poi contattato il Bologna per aggiornarli e comunicargli intenzioni di andare a Juventus. Tiago Motta ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024 quindi mancano praticamente 38 giorni 40 giorni circa alla scadenza del suo contratto. Io mi rifiuto poi queste sono considerazioni personali ma io personalmente Luca Toselli mi rifiuto di pensare che al 22 di maggio a 38 giorni dalla scadenza del contratto Tiago Motta non abbia mai comunicato al Bologna l'intenzione di andare via di andare alla Juventus. Quindi io la interpreto in questo modo qui. In queste ore domani quando sarà Tiago Motta dirà ufficialmente al Bologna che se ne andrà la Juve. Magari è già successo perché domani non è prevista se ho capito bene la conferenza stampa pre partita di Tiago Motta o comunque non parlerà Tiago Motta alla vigilia dell'ultimo incontro del Bologna in Serie A in questa stagione e questo può essere un indizio ma io mi rifiuto di pensare che Tiago Motta a 38 giorni dalla scadenza del contratto non abbia mai detto al Bologna almeno una volta guardate che la mia intenzione è rimanere o andare via. Quindi immagino che Tiago Motta dirà ok ora è ufficiale ho deciso di fare così. Magari mi sbaglio, magari no. Fatemi sapere anche un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti. E poi c'è da parlare anche di quelle che saranno le cifre, la durata di questo contratto. Inizialmente si parlava di un due anni più opzione per il terzo, nelle ultime ore si è parlato anche di un triennale. Vedremo un pochettino quale sarà effettivamente la scelta della Juventus anche dal punto di vista economico perché la Juve dovrà anche cercare di ragionare, di incastrare Tiago Motta all'interno di un progetto, di un bilancio che prevede sempre più un abbassamento dei costi di gestione della Juve anno per anno. Io devo terminare questo video, anzi aprire la seconda parte del video che poi porterà alla fine con anche un discorso un po' antipatico e che non mi aspettavo di dover fare. Però ho già letto tanti commenti e quindi un discorso che mi sento invece di dover fare. Perché ho letto diverse correnti di pensiero, principalmente due. La prima è Tiago Motta come Mayfredi, che fa una stagione buona a Bologna, arriva la Juve senza esperienza e quindi farà male. Ora, partendo dal presupposto che non esiste e non può esistere un ragionamento logico legato all'individuo di quella squadra, arriva in questa squadra e quindi dato che 50 anni fa quell'individuo ha fatto quella roba lì, allora anche questo lo farà. Sembra logico, scontato, perché se no è come dire, l'ultima volta che abbiamo preso un giocatore al PSG è stato Paredes, è andato male, io un Mbappé a parametro zero al PSG non lo prenderei perché se no è destinato a farlo nuovo Paredes. Non può essere così, è una follia interpretarla così o dire no, io Tiago Motta non lo vorrei perché l'ultimo Tiago, che in realtà è giallo, il penultimo Tiago e l'ultimo Motta alla Juve sono stati dei flop, cioè il ragionamento legato a Mayfredi è bene o male pressa poco lo stesso, privo veramente di fondamento, priva di logica. Se mi si dice, guarda, per me Tiago Motta no perché è un allenatore che ha uno stile di gioco che non si incastra con il giocatore della Juve, allora io posso capire. Non ha l'esperienza che secondo me è necessaria per allenare Juventus, lo posso capire, è un allenatore che non ha uno status juventino perché ha fatto l'Inter, non mi piace perché ha fatto l'Inter, cioè sono cose che posso capire di più rispetto a, no, una volta che abbiamo preso l'allenatore a Bologna è andata male quindi andrà male ancora, poi magari andrà male ancora, non sono qui a dirvi andrà bene per forza, c'è una storia di cristallo, piacerebbe potervi dire guardate Tiago Motta nei prossimi due anni farà questo, questo e questo e gli scatterà il triennale perché è andato bene quindi poi al triennale, cioè non sono un indovino, non sono mannamarchi, nemmeno il mago donascimento, quindi non posso farlo. Però questo che era il concetto più estremo si lega abbastanza in maniera decisa a quello che in realtà è un messaggio che mi piace e che voglio rinforzare ma voglio anche cercare di spiegare, di contestualizzare quello che è il mio pensiero e cioè al primo sbaglio vietato dire Tiago Motta out. Ora, per come sono fatto io e lo dico principalmente alle persone che mi seguono magari da un anno, da sei mesi, da tre mesi e quindi mi hanno sentito dire a più riprese che ero per l'esonero di Allegri, che per me Allegri non andava rinnovata eccetera eccetera. Non è una roba che mi porto dietro da sei anni, sette anni, otto anni, tre anni, il giorno zero dell'Alligribis, no. È una cosa che è maturata col tempo perché quando Massimiliano Allegri torna ad essere allenatore della Juventus io dico espressamente non mi sembra l'allenatore giusto per quello che chiede la Juve ma sono contento che torni Allegri perché è un allenatore vincente che si è sempre trovato bene la Juventus e qualcosa in più potrà darlo. È stato un errore da parte mia di valutazione ovviamente. È stata una lettura corretta quella della tipologia di allenatore, è una lettura scorretta quella di dire sono contento che Allegri possa tornare perché ha fatto comunque sempre bene e quindi farà bene quella lettura errate ed è stato oggettivo che sia così. Ma al termine del primo anno di Allegribis vi dico anche ragazzi io non lo esonererei, sono per la continuità, maggior ragione negli ultimi anni dove la continuità agli allenatori non l'abbiamo data. Quindi sono d'accordo nel dire al primo sbaglio motta auto è sbagliato ma anche la mia volontà di arrivare a cambiare Allegri non si è generata dall'oggi al domani, si è generata in seguito ad osservazione, a diverse partite, a diverse richieste, a diversi risultati che sono poi stati raggiunti, diverso approccio nella metodologia di lavoro, diverse dichiarazioni, una serie di cose che mi hanno portato dopo un anno e mezzo in occasione della pausa nazionale dopo Monza e Maccabia a dire ok ragazzi perfetto per me abbastanza, quello che devo vedere l'ho visto per me Allegri non è un allenatore giusto, non è il primo sbaglio, c'è stato un percorso che mi ha portato a dire quella roba dopo un'intera stagione sportiva e la prima parte della seconda. Quindi io credo che questo sia il modo giusto di affrontare tutte quelle che sono le valutazioni sportive. Sui calciatori è una regola che è relativa ai due anni, sugli allenatori quasi perché è diverso valutare un calciatore e valutare un allenatore perché quello che si chiede, la società chiede un calciatore e quello che chiede un allenatore sono due cose completamente differenti. Anche oggi nel paggellone della tier list della Juventus 23-24 vi ho detto guardate UEA, il calciatore che fino adesso non mi ha convinto è della Juventus, prima di cederlo definitivamente mi piacerebbe vederlo un secondo anno perché con un solo anno è difficile dare delle valutazioni definitive sui calciatori. Quindi io sono d'accordo sul al primo sbaglio non deve essere Tiago Mottaut, ci mancherebbe altro, aggiungo io perché se arriviamo al livello di analisi calcistica di al primo sbaglio uno va fuori, è sbagliato sempre con qualsiasi allenatore, poi ci sono le simpatie, le antipatie, questo è logico, uno può piacere di più questo, uno può piacere più l'altro, può convincere quel determinato stile di gioco, può convincere quel determinato stile di comunicazione, può convincere il passato, può convincere tutto quello, ognuno ha mille motivazioni diverse per preferire uno all'altro. Però molto probabilmente nelle prossime ore Tiago Motta verrà annunciato ufficialmente dalla Juventus, chissà che non possa Tiago Motta annunciare la sua separazione da Bologna proprio nelle prossime ore, noi saremo qui pronti a parlarne e pronti a iniziare a vivere quello che sarà un nuovo capitolo della Juventus, congiuntoli a capo dell'area sport, forse Chiellini di rientrano a Juventus come uomo simbolo che possa incastrarsi anche la tua squadra e con molto probabilmente Tiago Motta in panchina come allenatore. Fatemi sapere le vostre considerazioni, noi ci vediamo domani, ciao a tutti ragazzi, da Forza Juve!